Grazie a tutti. Luca capitolo 19, Evangelo di Luca capitolo 19, leggiamo il verso 5, Evangelo di Luca capitolo 19, verso 5 dice, quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, lo vide e gli disse, «Zaccheo scendi presto perché oggi debbo fermarmi a casa tua». Verso 8, «Zaccheo si fece avanti e disse al Signore, ecco Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, se offro dato qualcuno di qualcosa, vi rendo il quadruplo, quattro volte in più». Alleluia. Grazie a Dio per la Sua parola, Signore benedica, potete accomodarvi. Alleluia. Stasera con l'aiuto di Dio desidero predicarvi un sermone il cui titolo è «In tre parti». a mano che andremo avanti vi annuncio il titolo della parte interessata. La prima parte è «Gesù sa dove sei». A me. «Gesù sa dove sei». Questa storia è quanto mai interessante e ci fa vedere diversi aspetti. dell'onniscienza di Dio, dell'onniscienza di Gesù Cristo. E in questo episodio si parla di un uomo che la Bibbia dice era il capo dei pubblicani, quindi aveva fatto carriera, aveva un ottimo lavoro, in pratica guadagnava quanto, voleva lui. Non era un semplice esattore delle tasse, era il capo degli esattori delle tasse, dal conto del governo romano. Era ricco, aveva questo lavoro ed era anche ricco, quindi potremmo dire era un uomo di successo. carriera, denaro, sicuramente aveva una bella casa, candelieri placcati in oro, se non addirittura in oro massiccio. Era una di quelle condizioni per cui oggi si direbbe a tutto quello che vuole. Insieme al suo successo, insieme alla sua ricchezza, c'era pure tanto risentimento da parte dei suoi concittadini. Lo odiavano, lo detestavano, lo disprezzavano. E anche in questo caso si ripiega sul fatto che è normale quando si ha successo, le persone sono invidiose di te e quindi faranno di tutto per venirti contro. C'è parte di verità in questo, ma quando nel successo e quando nella ricchezza c'è una buona dose di disonestà, questo ragionamento, questa giustificazione non regge, viene meno. Ma ovviamente a dispetto del fatto che lui aveva successo e aveva tutto ciò che voleva, aveva denaro, gli mancava qualcosa. Perché quando tu hai quello che ipoteticamente dovrebbe soddisfarti e vai alla ricerca di qualcos'altro, ovviamente non sei contento di quello che hai. Sentì parlare di Gesù, venne a sapere che stava passando da quelle zone ed era interessato a vederlo. Sembra un interesse che può essere chiamato più curiosità che interesse, ma è ovvio che questo interesse nascondeva un'esigenza, un desiderio, qualcosa che dentro gli mancava e lui voleva trovare quello che gli mancava. Ora qualcuno di noi stasera potrebbe trovarsi in quella condizione, non necessariamente perché è all'apice della carriera e non necessariamente perché è ricco, ma magari può vantare di cose per cui possa dire ho quello di cui ho bisogno, sono contento di questo, ma dentro di te, in fondo al tuo cuore, c'è un vuoto che quello che hai non è in grado di colmare quel vuoto. Così come qualcuno ha detto nel cuore di ogni uomo c'è un vuoto che ha la forma di Dio e solo Dio può riempire quel vuoto alla perfezione. Nessun individuo può fare a meno di Dio. Alleluia! La religione non può riempire quello spazio, il denaro non può riempire quello spazio, il successo non può riempire quello spazio, le gratificazioni quotidiane, ammesso che ce ne siano, non possono riempire quello spazio, c'è bisogno assolutamente di Dio per riempire quello spazio vuoto che c'è nel cuore di ogni uomo. E Zaccheo non era l'eccezione, Zaccheo era un individuo come tutti quanti gli altri, a dispetto del successo, a dispetto del denaro, a dispetto del fatto che era odiato e detestato, e a dispetto del fatto che magari lui era affamato di più denaro, ma a dispetto di tutto questo c'era qualcosa di cui lui aveva di bisogno e su cui non riusciva a metterci le mani, così come poteva fare per il denaro e appropriarsene indebitamente. voleva vedere Gesù. Aveva quel nascosto desiderio, quel desiderio segreto nel suo cuore di voler vedere Gesù. E siccome la folla era grande e lui era basso di statura, ovviamente questo fa riferimento alla sua statura fisica, ma non c'è uomo che sia all'altezza di Dio in ogni caso. Quando noi andiamo alla ricerca di Dio, se Dio non ci viene incontro, noi non saremo mai all'altezza della situazione. Ma c'era la folla, era basso, e di certo se lui avesse cercato di farsi spazio in mezzo alla folla, appena lo avrebbero riconosciuto, avrebbero cominciato a spingerlo, ad insultarlo e cercare di rimandarlo indietro per dire vai via da qua, pezzo di ladro. Perché pubblicano è sinonimo di peccatore, sinonimo di ladro. E quindi lui decise di salire su un albero, una sorta di gels pieno, che fa molto fogliame, ha pianificato quello che lui voleva raggiungere. Voleva vedere Gesù e quindi ha visto dove si trovava, ha ipotizzato da dove sarebbe dovuto passare, si scelse un albero che lo avrebbe nascosto bene e ci salì sopra, pensando che da là avrebbe potuto vederlo senza essere visto. Avrebbe voluto soddisfare la sua curiosità senza essere esposto, inanonimato. ma Gesù sa dove sei e quando giunse in quel luogo, quando giunse sotto l'albero dove Zaccheo era nascosto, si fermò, alzò lo sguardo e non solo Gesù sapeva dove Zaccheo era, sapeva pure chi era. Lo ha chiamato per nome. Puoi fare tutto ciò che vuoi inanonimato, puoi tirare la pietra e nasconderti la mano dietro la schiena e nessuno lo saprà mai, ma Gesù sa chi sei, Gesù sa dove sei. Alleluia! E' impossibile sfuggire alla sua conoscenza. Tutti siamo un libro aperto davanti al Signore. Alleluia! Alleluia! Sapeva dov'era, così come sa dove sei tu stasera, in quale stato d'animo ti trovi, su quale albero hai cercato di annidarti, nasconderti, potrebbe essere l'albero del risentimento, l'albero del fallimento, l'albero della nostalgia del passato, potrebbe essere l'albero del dolore, potrebbe essere, qualunque possa essere l'albero, potrebbe essere quello che tu consideri l'albero del tuo successo, Gesù sa dove sei e sai una cosa, è interessato a venirti ad incontrare, perché là dove c'è, c'è un desiderio sincero di avere Gesù, o di incontrare Gesù, c'è un Gesù, c'è Gesù, genuinamente interessato a venirti a trovare là dove tu sei, e non hai bisogno di mandargli un sms per dirgli qual è l'indirizzo dove ti trovi, devi semplicemente cercarlo e lui verrà a trovarti, devi semplicemente chiamarlo e lui risponderà, devi semplicemente chiedere e lui avrà la sua mano tesa verso di lui, anche quando il mondo è intero è là a puntarti il dito a torto o a ragione che dobbiamo affrontare la realtà, a volte quando quando gli altri ci puntano il dito a volte a volte hanno il diritto di farlo, la parola di Dio lo dice, dice se soffrite perché avete fatto del male beh sono affari vostri, ma se soffrite per amore della verità allora dovete essere grati a Dio, alleluia, ma qualunque sia la ragione per cui vi puntano il dito contro o come per Zaccheo perché lui non era esattamente una persona corretta o perché invece stai cercando di fare il tuo meglio per servire Dio sappi se tu sei sinceramente interessato in Gesù Gesù è sinceramente interessato in te e ti troverà perché lui sa dove tu sei e quando arriva dove tu sei non ha non ha bisogno di chiederti la carta di identità per sapere come ti chiami sa già chi sei sa già il tuo nome sa già perché sei là Zaccheo scendi prestamente perché oggi devo fermarmi a casa tua è più di un semplice auto invito a pranzo o a cena probabilmente Gesù ha albergato a casa di Zaccheo per qualche giorno insieme ai suoi dodici uomini che mangiavano come tanti lupi e sapete chi poteva permettersi il lusso di auto invitarsi in quei giorni solo il re il re poteva auto invitarsi a casa di chiunque ed era considerato il più grande degli onori quando il re si auto invitava a casa tua ora se un pinco pallino qualsiasi viene e dice oggi mangio a casa tua non sei contento no ma il re potevano farlo e Gesù ha usato la sua autorità regale per dire oggi devo fermarmi a casa tua devo quel dovere scaturisce dal fatto che Zaccheo a dispetto di quello che tutti pensavano di lui voleva vedere Gesù e quando si vuol vedere Gesù Gesù si fa trovare alleluia e non è meraviglioso che lui sa chi noi siamo alleluia 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 Zaccheo io so chi sei Giovanni Filippo Matteo Bartolomeo so chi tu sei so dove ti trovi e so pure che cosa hai di bisogno devo fermarmi a casa tua tu hai bisogno che io mi fermi a casa tua perché Zaccheo le tue ricchezze il tuo successo la tua cattiva reputazione non ti danno quello di cui tu hai bisogno quindi io devo fermarmi a casa tua tu hai bisogno che io mi fermi a casa tua tu hai bisogno che Gesù sia a casa tua e sai cosa significa quando Gesù deve essere a casa tua che le regole cambiano non sono più le regole del mondo ma diventano le regole di Dio non sono più a modo mio ma diventa a modo suo non quando voglio io ma quando vuole lui io ho bisogno della presenza di Gesù a casa mia nella mia vita nella mia mente ogni singolo giorno ogni giorno desidero dire signore oggi voglio che tu sia a casa mia oggi voglio che tu sia a casa mia alleluia la Bibbia dice che Zaccheo prestamente è sceso dall'albero non fu là a dire ma sei proprio sicuro prestamente è sceso a casa dall'albero e lo accolse a casa sua con gioia con allegrezza e là come al solito prima parlavano contro Zaccheo ora a motivo di Zaccheo parlano contro Gesù va a casa dei peccatori mangia con i peccatori ehi stai servendo Dio e a motivo del fatto che servi Dio le persone ti accusano Gesù ha detto lo hanno fatto a me legno verde lo faranno a voi legno secco ma questo non deve diventare un fasso alibi per dire la ragione per cui sono detestato dalle persone perché io servo Dio devi essere sicuro che è così perché se non è sicuro che è così allora hai bisogno di cambiare allora hai bisogno di invitare Gesù a casa tua hai bisogno di cercare Gesù affinché lui abbia l'opportunità di fermarsi a casa tua e fare la differenza perché quando c'è Gesù lui fa la differenza l'atmosfera cambia l'umore cambia la condizione spirituale cambia dove c'è morte arriva la vita dove c'è buio arriva la luce dove c'è tristezza arriva gioia dove c'è sconsolazione arriva pace perché lui è tutto ciò di cui noi abbiamo di bisogno alleluia io non so a che punto era arrivato il pranzo o la cena o quello che sarà per essere probabilmente prima ancora che cominciassero a mangiare perché avrà dato subito ordine ai suoi cuochi ai suoi camerieri ai suoi domestici di preparare il miglior pranzo che era mai stato preparato e per tredici uomini c'è un bel da fare a cucinare tu come sei messo a forchetta una buona forchetta vero? prendi tredici come salvo trovato e dovete andare a comprare dodici vitelli e probabilmente prima ancora che si sedesse la tavola succede qualcosa di straordinario Zaccheo va da Gesù e gli dice signore Kyrios eterno io darò la metà dei miei beni ai poveri e poi ci viene e se ho affrodato alcuno ma in effetti la realtà è che Zaccheo stava dicendo e visto che ho affrodato tanti restituirò il mal tolto quattro volte in più se ho rubato cento pecore ne restituirò quattrocento ora secondo la legge ebraica per Zaccheo sarebbe stato più conveniente restituire secondo la legge ebraica perché avrebbe dovuto restituire le cento pecore più un quinto quindi più un venti per cento se aveva rubato cento pecore avrebbe dovuto restituire centoventi pecore invece Zaccheo è non per ignoranza ma perché voleva nel modo più assoluto liberarsi di quello che non era suo ha scelto di agire secondo la legge romana quella meno conveniente quella che gli sarebbe costato di più e quindi ha detto restituirò quattro volte in più invece di andare secondo la legge ebraica centoventi pecore va secondo la legge romana quattrocento pecore e questo perché Gesù entrando a casa sua è stato in grado di fare la differenza Gesù sa dove sei e anche se sei nel posto sbagliato anche se sei annidato in un albero di ribellione però dentro di te c'è quel desiderio di volere in un modo o nell'altro vedere Gesù perché effettivamente non lo hai mai visto così bene prima ma ne hai sentito parlare hai sentito della sua reputazione e non ti offendere se ti dico che anche se sei in chiesa da trent'anni è probabile che ancora tu non conosca Dio vai a leggere il libro di Giobbe non per confrontarti con le sue con le sue pene perché nessun uomo ha mai passato le pene di Giobbe e voi ti diciamo stai volzando i pene di Giobbe ma che cosa non lo sai neanche cosa significa e devi pregare che non ti avvenga mai quello che è successo a Giobbe nel giro nel giro di poche ore probabilmente ha perso tutto le sue ricchezze le sue pecore i suoi i suoi buoi i suoi asini i suoi servi i suoi figli le sue case la sua salute tutto ma se quando cominciate a leggere il libro di Giobbe ci ha messo che lui era un uomo integro che temeva Dio era occhi dei ciechi era padre degli orfani era marito delle vedove era un uomo che faceva di tutto per aiutare gli altri addirittura lui dice era un uomo integro e poi dice io ho fatto un patto con i miei occhi che non avrei guardato la vergine sapete cosa significa questo che non avrei guardato una donna che non era mia moglie andato a dire là fuori questo alle persone oggi vi prenderanno per bigotti vi prenderanno per scemi vi prenderanno per persone arretrate ma questo questo era Giobbe un uomo integro un uomo che temeva Dio e che pregava per se stesso e per i suoi figli e non una volta l'anno non a fine anno in questo periodo tutti sono più buoni tutti salutano tutti oh bambare come stai saluto a casa mi raccomando tutti contenti almeno così sempre mandateli scendere commerciale hanno buste bustine bustette in bisogno e alla fine di tutte le sue peripezie Giobbe quando finalmente riesce a superare il trauma e lo shock di tutto ciò che ha subito e di tutte le accuse le insinuazioni che i suoi amici hanno fatto contro di lui una cosa è essere accusato dai nemici un'altra cosa è essere accusato dagli amici fa più male ma quando lui superò il trauma di tutte queste cose a un certo punto dice signore io metto le mie mani davanti alla mia bocca non parlo più ritratto tutto quello che ho detto e poi qualche verso più vanti dice io avevo sentito parlare di te ma adesso i miei occhi ti hanno visto Giobbe un uomo integro che teneva Dio occhi dei ciechi padre degli orfani marito delle vedo è un uomo che non guardava altre donne che era fedele a sua moglie eppure dice io avevo sentito parlare di te e dite a qualcuno che è in chiesa da un mese e mezzo guarda che la parola di Dio dice è un mese e mezzo che sono in chiesa usaccio ma che sai io non so neanche dove abito ogni giorno abbiamo bisogno di imparare un po' di più potresti essere su quell'albero l'albero di quello che tu consideri esperienza io so tutto quello che ho bisogno di sapere se Dio vuole qualcosa da me me lo chiede personalmente siamo diventati importanti ora Dio bypassa la sua parola bypassa i suoi ministri e vi mando un sms personale a tutti quelli che hanno lo smartphone fratello milanese sono un ducato io non devo mandare un messaggio a te non ce l'hai a catatilla sorella per il suo compleanno gli devi regalare uno smartphone ok poi ti scrivo il nome Gesù sa che tu sei su quell'albero sei sei intoccabile nessuno può dirti nulla nessuno può insegnarti nulla e Dio stesso quando tenda di parlarti non è ascoltato però dentro c'hai quel senso di insoddisfazione non saresti qua altrimenti e Gesù sa che sei là e vorrebbe poter venire sotto quell'albero e dirti ehi Maddalena scendi giù ehi Marta scendi giù spero di di non citare i nomi di persone presenti perché altrimenti mi ci lavo come con Miano Dio me ne guardi liberi oggi voglio venire a casa ehi Giobbe scendi giù da questa autocommiserazione voglio benedirti più di quanto abbia mai fatto prima voglio farmi conoscere da te perché Gesù sa dove sei Gesù sa chi sei e Gesù sa di che cosa hai di bisogno e se tu gli permetti di venire a casa tua ieri avete ricevuto la telefonata di una vostra amica o di un vostro parente se non ti dispiace lunedì vengo a farti visita sono in ferie e voglio venire a farti visita avete cominciato a fare le corse pazze per mettere sotto il tappeto la polvere sistemare le cose le tendere un po' sporche giù andiamola a lavare domani arriva o lunedì arriva Cicerina e non voglio fare cominciate a mettere un ordine che magari avete trascurato perché eravate impegnate con altre cose e Gesù vuole venire a casa tua qualcosa in un modo o nell'altro se lui viene a casa tua cambierà Zaccheo carriera denaro tutto quello che voleva ma avevo bisogno di Gesù so quale albero sei stasera Gesù sa dove sei stai cercando di nasconderti dietro quelle foglie ma Gesù è là a chiederti di venire giù di scendere dal tuo piedistallo qualunque sia la natura del tuo piedistallo la parola di Dio dice l'orgoglio precede la rovina ma l'umiliazione l'umiltà precede la gloria chi si abbassa sarà innalzato chi si annalza sarà abbassato alleluia quando quando noi scendiamo dal nostro piedistallo per rispondere all'invito o alla richiesta di Gesù quando noi decidiamo di togliere di mezzo tutte quelle foglie che usiamo per cercare di camuffare la nostra condizione ricordate Adamo ed Eva quando scoprirono di essere nudi a causa del loro peccato cosa hanno fatto hanno preso delle foglie d'albero per cercare di coprirsi ma non ha funzionato andarono a nascondersi e quando Dio arriva lui sa dove erano lui sapeva dove erano così come sapeva dove era Zaccheo ma se tu non vuoi lui non verrà mai a casa tua e quindi cominciai a chiamare Adamo posso sentire l'ecco Adamo Adamo dove sei e Adamo vedeva cominciarono a guardarsi l'uno all'altro e non sapevano cosa fare signore siamo qua ma ci vergogniamo perché siamo nudi è probabile che hai conosciuto Dio ma adesso ti accorgi di essere nudo spiritualmente parlando e Dio ti sta cercando perché non vuole che rimani in quella condizione di nudità e la nudità è stata portata per la disubbidienza e la disubbidienza è peccato chi vi ha fatto vedere che siete nudi e là comincia lo scaricabarile la donna che tu hai fatto per me mi ha fatto mangiare il frutto pezzo di vigliacco non è stato in grado neanche di assumersi le sue responsabilità Eva chi 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 ha fatto vedere che tu il serpende mi ha mi ha fatto mangiare il frutto è strano quando si pecca difficilmente ci si assume la propria responsabilità è sempre colpa degli altri Zaccheo non è stato la dire signore questi giudei sono detestabili mi odiano perché io sono ricco e loro sono poveri io ho questa bella casa e loro vivono in una catapecchia io ho un cavallo bianco e il più fortunato di loro ha un asino spelacchiato questa è la ragione per cui mi odiano cosa devo fare per tappare loro la bocca non è tutto questo lui ha semplicemente preso si è assunto la sua responsabilità si è reso conto che quello che Gesù era stava facendo per lui era molto più importante di tutto quello per cui avevo lottato per l'intera sua vita e ha detto metà di tutti i miei beni non stavo parlando di ciò che avevo rubato delle sue ricchezze legittime metà la do ai poveri e poi tutto quello che ho rubato lo restituisco secondo la legge romana quattro volte quello che ho rubato perché non voglio avere più niente a che fare con ciò che finora mi ha dominato voglio che tu sei il signore della mia vita e questo è quello che Gesù vuole fare per te ma non per schiavizzarti ma per darti una vita che vale la pena di essere vissuta per liberarti dal fardello del peccato dal fardello della ribellione dal fardello della schiavitù al mondo al sistema immorale del mondo Dio vuole cambiare la tua vita vuole cambiare la tua esistenza vuole mettere in te ciò che tu non hai mai potuto comprare con oro o con argento vuole mettere in te la pace che solo lui può dare Gesù è il principe della pace lui è il principe della pace è lui che ti dà la pace dentro Alleluia Il tuo albero potrebbe essere l'ansia potrebbe essere il tuo passato negativo potrebbe essere la scoperta di qualcosa di orribile che non ti fa più dormire tranquillamente perché a volte le circostanze sono così abili a distrarci da Dio il tuo albero potrebbe essere la tua auto giustizia perché tu leggi la Bibbia hai una Bibbia in tasca una sul cuscotto dell'auto un'altra sul comodino accanto al tuo letto un'altra sul tavolino del salotto e regali Bibbia a destra e a manca ma questo non è sufficiente per essere quello che Gesù vuole che tu sia lui vuole venire a casa tua per fare la differenza nella tua vita non puoi essere soddisfatto con la tua religione devi cercare Gesù affinché sia lui a darti la sua vita affinché sia lui a compiere la sua volontà nella tua vita a me Gesù sa dove sei il pastore potrebbe non saperlo il fratello che ti sta accanto potrebbe non saperlo il tuo conige potrebbe non saperlo il tuo collega di lavoro potrebbe non saperlo vedono tutto tranquillo ti vedono una persona normale vedono un fratello una sorella che viene in chiesa ricordo quando abitavamo a Scillichendi là c'è un un panificio vicino la la piazza principale è proprio l'angolo subito dopo la piazzetta principale e uno dei figli del proprietario del panificio lavoravo là e un giorno è andato dal barbiere si è fatto tagliare i capelli si è fatto fare la barba e il barbiere scherzando gli ha detto dove stai andando che stai cercando di farti bello e lui ha detto adesso vado a salutare i miei nipotini e poi poi vediamo avevo tutto un progetto andò a farsi barba e capelli e andò a salutare i suoi nipotini poi andò a casa e si impiccò credo che avesse 24 25 anni tutti pensavano che lui avesse una vita normale e nessuno ha mai saputo il perché di quel suo gesto i suoi genitori sono andati ovviamente in crisi guadagnavano bene avevano una bella casa una vita normale ma Gesù sa anche quello che nessun altro è in grado di sapere lui sa dove tu sei non serve a niente giocare nascondino con lui se hai bisogno di lui e lo cerchi sinceramente lui non si farà come dire supplicare per venire da te verrà spontaneamente dai scendi oggi oggi devo venire a casa tua devo venire a casa tua ma Gesù è un imperativo poter cambiare la tua vita se tu glielo consente Gesù vuole perdonare i tuoi peccati Gesù vuole darti il dono dello Spirito Santo Gesù vuole darti pace Gesù vuole rinnovare la tua esperienza con Dio perché la cosa triste è che noi viviamo nei giorni in cui per molti e non parlo solo Viale Africa 31 parlo per la Chiesa in generale per molti è diventato soltanto una questione di routine di rito di abitudini e domenica andiamo in Chiesa e sabato andiamo in Chiesa mercoledì andiamo in Chiesa poi c'è chi ha il calendario se vado il mercoledì non vado il sabato e poi vado la domenica a meno che non ci siano impegni a causa di forza maggiore oppure vado il sabato non vado la domenica o non vado la domenica e vado il mercoledì una specie di schedina una routine un qualcosa che facciamo con la stessa attitudine con cui andiamo al bar a prendere un caffè con l'amico ma Gesù stasera sa dove sei sa chi sei e sa che cosa hai di bisogno ed è sinceramente interessato a fare la differenza nella tua vita se ancora non hai chiesto il perdono dei tuoi peccati confessali a lui e lui ti perdona se ancora non hai ricevuto il dono dello spirito santo con l'evidenza del parlare in altre lingue è un dono che Dio ha per tutti non è per un gruppo selezionato è per tutti avverrà dice la parola di Dio che negli ultimi giorni io verserò il mio spirito sopra ogni carne dice il Signore questa è la sua volontà questo è quello che lui vuole fare quindi è per tutti però se poi io apro l'ombrello per evitare che ciò che Dio ha per me mi tocchi quella è la mia scelta ma a prescindere dal fatto che sei seduto al primo banco o all'ultimo e sei in chiesa da tre anni o da quarant'anni stasera vorrei invitare tutti quanti noi a chiedere a se stessi la domanda dove sono chi sono cosa ho di bisogno e poi rivedere le domande ovunque io sia Gesù sa dove mi trovo chiunque io sia Gesù sa chi io sono e qualunque cosa io abbia di bisogno Gesù già lo sa ed è pronto a poterlo fare se io gli consento di venire a casa mia lei chiede di alzare l'impiede qualcuno di voi è risentito perché la vita vi ha giocato un brutto scherzo il diavolo vi ha convento che la chiesa ce l'ha con te qualcuno ti ha bisbigliato all'orecchio che tu non hai bisogno di ascoltare la parola di Dio qualcuno ti ha convento a a fare quello che la parola di Dio dice di non fare e questo qualcuno l'ha fatto fin dall'inizio è quello che ha fatto con Adam e Eva ha messo dei grandi punti interrogativi intorno a ciò che Dio aveva detto per poi alla fine cercare di smentire Dio non è vero non è vero che morirete anzi diventerete come Dio quello che oggi alcuni cercano di fare nel mondo cercare di smentire la parola di Dio non è la moda dell'ultimo momento era già di moda nel giardino di Eden il diavolo ha cominciato là a fare quello che a distanza di millenni continua a fare una volta si usa del serpente una volta del cosiddetto sapientone un'altra volta del teologo un'altra volta delle false rivelazioni ma è sempre lui là cercare di di smentire la parola di Dio Gesù sa dove sei Gesù sa chi sei e Gesù sa che cosa tu hai di bisogno ma sei tu ad avere la prorogativa di permettere a Gesù di entrare in azione nella tua vita di entrare nella tua casa oppure decidere che ti basta averlo visto passare sotto l'albero e aver soddisfatto la tua curiosità a me non basta vederlo da lontano a me non basta sentirmi parlare io voglio che Gesù sia a casa mia e questa è la ragione per cui quando venite a casa mia o chi viene a casa mia non troverà riviste pornografiche non troverà scatole parlanti non troverà bottiglie inebrianti non troverà bastoncini intossicanti non sentirà parole volgari perché Gesù è a casa mia se qualcuno viene alla porta a meno che non stia dormendo e se sto dormendo significa che o qualcuno è venuto alla porta prima delle 5 e mezza oppure è venuto alla porta dopo le 22 e 22 perché quella è la mia ora per andare a letto alle 22 e 22 ogni tanto le mie figlie mi mandano un messaggio alle 22 e 25 se io rispondo dico oh oh hai perso il segno riprovaci sarai più fortunato che dovevo già essere a letto non ho bisogno di andare ad afferrare chissà quale tovaglio coperta per coprirmi sono già vestito decentemente magari non avrò la cravatta perché quando posso ne faccio a meno non avrò il vestito ma sono vestito decorosamente Gesù vuole venire a casa tua stasera e non ti preoccupare non non ti ruberà spazio verrà soltanto per migliorare le tue condizioni loco dice ma Zaccheo ci ha rimesso un sacco di soldi ha dovuto far mangiare quei 13 uomini affamati non si sa neanche quanti giorni sono rimasti a casa sua ha dato metà di tutti i suoi beni e per qualcuno che è in grado di dare metà di tutti i suoi beni e poi restituire il maltolto quattro volte in più doveva avere una montagna di soldi ma quella montagna di soldi non erano in grado di soddisfare quel vuoto di Zaccheo c'era bisogno di Gesù e Gesù vuole farlo per te stasera non domani stasera vuole darti lo spirito santo stasera vuole perdonare i tuoi peccati stasera vuole guarirti stasera vuole cambiare la tua vita stasera se qualcuno di voi vuole rendersi conto di quale veramente sia la propria vita vi farà ridere ma c'è da piangere basta che andate a guardare le foto che pubblicate sui social network tradotte in italiano facebook twitter google plus instagram pin interest ci sono foto che da cui è impossibile sapere che quelle persone sono cristiani impossibile e se posso darvi un suggerimento parte il fatto che noi siamo cristiani anche su facebook un ispettore della polizia postale anni fa mi disse signor Arcidiacono se posso dargli un consiglio pubblichi il minor numero di foto possibile su internet o su qualsiasi social network perché è impensabile quello che a volte fanno con le foto di persone ignare foto di bambini di neonati di donne di uomini di giovani di coppie ma questo a prescindere dobbiamo essere cristiani anche su facebook dobbiamo essere cristiani anche su instagram su twitter su google plus su pin interest non so se ci sono altri social network e questo avviene quando Gesù entra a casa tua quando Gesù entra a casa tua si siede alla tastiera del tuo computer e comincia a cambiare il tuo profilo comincia a mettere dei post che parlano della tua cristianietà della tua fedeltà a Dio comincia a cambiare i tuoi desideri i tuoi pensieri le tue aspirazioni il tuo stile di vita Zaccheo Gesù deve fermarsi a casa tua oggi l'altare è aperto e sei tu a decidere cosa fare della tua vita del tuo presente di quello che sarà il conseguente futuro da quello che tu farai nel tuo presente Gesù non ha il passepartout per entrare nella tua casa sei tu che devi usare la tua chiave per farlo entrare Gesù non andrà ad aprire il tuo frigo per cominciare a mangiare sei tu che devi offrirgli quello che hai grazie a tutti Grazie a tutti